Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite con un nuovo episodio dell'atterriamo per un'ora alla testa dell'orsacchiotto di Tana Strana E infatti ho messo anche la skin, direi che ci sta, direi che ci sta, ho sempre odiato giocare con questa skin perché c'ha il testone, quindi vediamo un pochettino quello che riusciamo a combinare Ovviamente in arena, era un po' che non portavo questa serie perché nelle ultime settimane sono uscite un po' tante cose su Fortnite quindi mi sono concentrato su altri contenuti Ma mi raccomando per supportare questa serie lasciate un bel mi piace, anche perché dobbiamo atterrare ancora in tante altre città e alla trivella dell'OI Ovviamente vi ricordo anche di supportarmi nel negozio oggetti di Fortnite col mio codice creatore GGYT tutto grande tutto attaccato, mi raccomando ragazzola è davvero fondamentale per supportarmi Quindi controate sempre che sul supporto a un creatore ci sia scritto GGYT tutto grande tutto attaccato anche perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo Grazie a voi di cuore a chi lo farà è davvero fondamentale per supportarmi Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciate un bel mi piace, lo shop si aggiorna tra 12 ore e 20 quindi direi che a 11 e 20 non posso più startare partite Allora, la testa di Tana Strana sta qui, vi faccio vedere dalla map per chi se lo fosse perso, tra virgolette, sta qui in basso a destra E non sembra eh, ma considerando anche le casettine che c'è intorno c'è un bel po' di loot Ovvio è che se ci atterra pure qualcun altro diventa un po' complicato lootare perché sì c'è un po' di loot ma non così tanto Perché poi per esempio lì ci stanno quelle roulotte con un bel po' di loot, all'interno della testa comunque c'è un po' di robettina Il problema è che mi sa che quello lì mi anticipa, vero? No, dovrei essere più basso io No, guarda, guarda che a terra con me Guarda che ci prova comunque, guardalo che ci prova Ha preso tutto lui! Ma com'è possibile? Cioè, non ho preso neanche i colpi, non ho preso neanche lo shield, non mi ha preso niente Ma, cioè, va bene Grazie Fortnite, è sempre molto gentile Perfetto, oggi iniziamo alla grande Bene, ci riproviamo Io comunque, ragazzi, non volevo essere cattivo ma lo so perché lui è riuscito a prendere tutto quanto e io no Da mouse e tastiera, ma lo faccio anche io, eh, per carità lo faccio anche io Puoi mettere che louti con la rotella Cioè, tu puoi scrollare la rotella e c'hai sostanzialmente il loot, ti apre le porte, insomma, ti fa il classico usa dei giochi Ed è rapidissimo, ragazzi, è rapidissimo, c'ha meno input lag E infatti ha preso tutto, cioè, l'avete visto, ragazzi, ha atterrato dopo e ha preso tutto lui Nonostante il loot fosse uscito dalla chest più verso di me Perché è uscito alla mia sinistra e l'avversario arrivava da destra Cioè, è stato davvero incredibile Ma che poi, di solito, quando succedono queste cose, almeno lo shield, almeno la cura, magari la riesce a prendere, no? Lui ha preso proprio tutto Se vede proprio che è stato lì, ha spammato lo scroll reset E perché si chiama scroll reset questa cosa della rotella E no, lo scroll reset è per... Scusate, lo scroll reset è per l'edit Eh, questo è per lutare, ma comunque avete capito E niente, regà, cioè, un... Ma è pure quello di prima era un alpino, vero? Questa è la zona degli alpini, regà Uh, subito il succo succoso che mi vada a bere immediatamente Il problema, regà, è che pensavo sinceramente che non ci atterrasse nessuno Invece già è la seconda volta che ci atterrano e ci fregano pure E che vi debbo dire? Ma che vi debbo dire? Io mo' ci provo a pusharlo? Non lo so, anche perché io in realtà sarei dovuto atterrare lì, regà Ma atterrare lì alla testa, sta partita sarebbe voluto dire morire Quindi vediamo un attimino questo qui se sta lutando effettivamente dentro la testa O anche lui poi ha virato No, è rimasto qui E... Va bene, tra l'altro sentivo la mitraglietta sparare anche dopo che aveva finito di sparare Bellissimo, va benissimo Ci ha tolto... Ma non mi aveva hittato? Mi sa che non ci ha hittato, raga Uno di vita giusto ho perso Perché comunque il succo succoso mi dava 75 Lo scildino mi ha dato 25 Oh, va bene, cose strane Comunque devo dire che il loot in realtà in sta partita è stato veramente povero, eh Ah, qui c'è una cesta dei giurati però Non la sapevo sta cosa Non la sapevo questa cosa, ragazzi Potrebbe tornarsi utile, eh Allora, vediamo con previsione dove sono le prossime tempeste Vabbè, neanche troppo male, eh Poteva andare molto peggio Ah, raga, sto con un loot esotico C'è gente qua che ha usato la zip line E infatti è quello lì Ok Che fa? Ci siamo intendi a vicenda con l'excalibur GG bro GG bro E mi sta già pushando Cioè già si è curato lui? Che ha la cura più veloce del west proprio Ah no, si sta curando anche lui È che si voleva prendere l'alte... Ma me l'hai ditato? Ok, fra Dove stai andando, fra? Ok, fra Tutto a posto? Beh, mi sembrava molto cattivo Ma in realtà non era proprio così Allora, quella mitraglietta leggendaria Rimane là, raga Io preferisco troppo questa qui Col doppio caricatore L'excalibur direi che ce lo teniamo, dai Ah, raga, c'è sta uno qua Manco l'avevo visto No, raga Ah, faccio schifo con l'excalibur Erano io se non lo piavo Vabbè, però lui scappa A sto punto lo lascio scappare Che dite? Sì, va Lasciamolo scappare Anche perché poi lì se sta salendo sul monte C'ha l'altezza Ci sei fermato Bro, stavi scappando E poi che cosa è cambiato nella tua testa? Eh? Hai cambiato idea? Ecco Mo te la faccio cambiare io idea, va bene? Te la faccio riricambiare l'idea Però tanto credo che si sia bello che curato Giusto per mettergli un po' di ansietta Ah, proprio Ah, no, 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 è scappato, è scappato No, c'ha il coso C'ha il coso del deltaplano, regà Ma dai Eh, te credo che è riuscito a scappare Sto monellaccio Mi sa che si è fatto pure un barilotto di slurp Guarda, guarda come scappa Sta a fare tutto il coraggioso Poi Scappa così Ma Vabbè La prossima safe è di là, ragazzi Quindi va bene Lasciamolo stare, va? Oh, 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 oh Con tutta sta cattiveria me lo dici? Cos'è? Sì, sei chiuso? No, non sei chiuso Oh, 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 oh Con una certa calma, eh Non capisco Regà, questo non sto capendo Sei bravo o no Cioè, fa delle cose incredibili E l'attimo dopo fa Cavolate Oh, no, no, è un fenomeno È un fenomeno Dove è andato? No, vi giuro, non sto capendo Mi sto per mettere a ridere Ma mi sa che ci abbiamo anche qualcun altro qui sotto Sì, ci abbiamo qualcun altro qui sotto E non credo sia lui Sì, no, mi sa che è lui È lui, è lui Il campione è lui Mi sa che è entrato l'Excalibur, eh Eh, vabbè Di un attimo proprio Non sono riuscito a entrare nel box Ma non capisco se c'è un terzo incomodo o meno Sapete? Aia Aia Ehm Non so che fare Ok Eh, vi giuro Non lo sto capendo Cioè, è uno dei fight più strani Che io abbia mai fatto Cioè, ma proprio ve lo posso garantire Cioè, uno dei giocatori più imprevedibili Della storia Che non capisci se è forte Se è scarso Se sa quello che sta facendo Ma forse sì Forse è un fenomeno Un fenomeno incompreso, ragazzi Non lo so Un fenomeno incompreso, signori Eh, quanto poco gli ho fatto Faffan bene A te A sto pump leggendario Al martello Al tuo modo di giocare Eh, che cavolo Stava a far venire il mar de testa, ragazzi Su un po' È così che si trattano gli avversari Vabbè che vabbè, eh Però, insomma Allora Facciamo così E così Ci prendiamo il martello L'ex caliber Tanto non mi entra manco una hit Quindi mi accontento così Ci mettiamo il caricatore giusto Della mitraglietta Doppio caricatore E si va a comandare Uh, c'è qualcuno con la corona qua Mi sa Ma proprio qua dentro Perché me l'ha pingata proprio Qua vicino Ma, ma da Ma stava sopra, ragazzi No Fermi tutti Fermi tutti Ok, gli sta Stanno sparando a lui Stanno sparando a lui E, raga, io faccio una cosa La situa Non mi piace più di tanto Lui ha provato a prendermi anche con Il pump Non sono riuscito a scappare bene Come volevo Ma va bene anche così Più che altro Mi devo rifare un attimino in mazza, raga Ma, raga, io ho trovato uno shieldone Me lo faccio Per 3D shield Me lo faccio E andiamo in safe Ma, raga, c'è qualcuno qua dentro Che ci si è appena chiuso Credo mi abbia visto, però Ma che fa? No, pensavo Porca miseria Che altro Per quell'altro Che ci sta sparando da lontano Quello che ci sta sparando Oh, ma tutti con sto tuono Leggendario State Ma una bella mitraglietta Leggendaria Che non sia questa qui Per favore Niente, eh De quella proprio Niente Mannaggia la miseria Ma me la ricarichi Non mi ricarica la mitraglietta Devo dire Top Bellissimo Perfetto Rispariamo Così ricambiamo il caricatore E siamo rimasti in 6, raga Oh, mio Dio Qualcuno dentro il cespuglio Te pareva? Te pareva? Poi guarda lì Cioè, si nascondono il cespuglio Ma poi traiardano Come se non ci fosse un domani Cioè, almeno io Quando campero nel cespuglio È perché voglio camperare E basta, no? Che sta a fare questo? Ah, me lo la facca te Però c'è pure io il martello Non ti preoccupa Cioè, proprio Vai sereno Guarda, ti pushano proprio pure, eh Cioè, ti seguono Fino a capo al mondo Beh, ha sbagliato pure l'edit Ha sbagliato No, da dietro, regà Ma guardate Che fortuna, questo Giusto perché mi viene a rompere Le scatole quello da dietro Mi ha fatto perdere proprio l'attimo Quello dietro Che ci ha sparato E lui è uscito Ecco, mi è arrivato pure Faccio una cosa, regà Eh, me ne devo andare Anche se mi sarebbe proprio piaciuto Killare quello lì, eh Credo se le stiano dando loro, però Credo se le stiano proprio dando loro Il problema, ragà, sono pure i maz Madonna, oggi i maz Me se ne stanno andando proprio Con una facilità incredibile Quanto sto buildando? Ah, ragà, stanno affaitare di brutto qui Ma c'è qualcuno con il martello E si sta avvicinando da lontano Quindi Voglio cercare di intrufolarmi Ma intelligentemente, eh Senza poi finire io stesso In un panino incredibile Perché poi La paura è sempre quella, no? Io la corona, ragazzi Nel dubbio me la piglio E mi piglio anche questa Che ne dite, eh? E vai giù, vai giù, vai giù Sarebbe stata Un'ottima kill Mannaggia No! Non c'avevo il pump pronto Fermi tutti Mi devo mettere in un box Che è tutto mio Per ricaricare le armi Qua non è tutto mio Però dovrei essere Un po' più riparato Mannaggia, regà Se fossi riuscito a fare Anche la kill su quest'altro Era top Mi allontano un attino Da tutta questa serie di box Perché poi ogni volta Che si vengono a creare Quelle situazioni un po' ambigue Non è il top Allora Eh, infatti C'è anche uno di qua E non so che fare Sinceramente Ce ne abbiamo due In quel mega box lì Uno di qua Dobbiamo stare attenti E quello Quello è uno che rompe le scatole Io quindi mi copro di là E tengo sotto controllo lui Il problema è che poi Ci dobbiamo muovere Proprio verso lì Verso la safe È di là È la miseria Quanta aggressività Oh Allora il problema è che MSM dovevo muove prima io Perché è verso di là Quindi di sicuro Dovrò muovermi Prima io Strano che non mi abbia sparato Cioè dopo aver visto Quello che ha fatto prima Veramente strano Che non mi abbia sparato Ma Eh, la miseria Vabbè niente Mò ce l'hanno tutti con me Perché giustamente Sono andato in avanti Ragazzi Ma non dovete andare pure voi In safe Chiedo eh Io chiedo Ma ce l'ho messo sopra Dove cavolo sta Ma vabbè Ho capito però Io non ho No è quello lì È godo È godo però eh Godo proprio No ce l'avevo Ma ce l'avevo I curabombe in mano Anche giustamente Dovevo curarmi Ci poteva stare Oh mio dio Eh vabbè Eh vabbè Non mi sembra Una partita Molto facile Ma che co Di che stiamo parlando Signori Di un fenomeno Con la mitraglietta Ma no Vabbè raga Cioè scusate un attimo Cioè scusatemi Un attimino Ma Non so È normale Eh no Ragazzi Vabbè Mi hanno sparato Da otto lati diversi Porca miseria Stand è stato anche Un po' sfigatello Però eh Ma io raga No no Non lo posso aspettare L'altro Chi è Cioè raga È allucinante Questa mitraglietta Infatti c'ha due mitragliette Vabbè GG Oh finalmente ragazzi Una partita in cui Atterro solo Soletto Alla testa Di Tana strana Eccola qui L'orsacchiotto Finalmente Siamo soli Sì Allora comunque Ci dovrebbe essere La chest sopra Questa qui dove prima Ci hanno fregato letteralmente tutto E dove adesso abbiamo trovato Bellissimo DMR Si entra Bel posto Perfetto Ma non c'era qualche arma Anche a terra Un altro DMR Oh ma che è Ma per favore Facciamo i seri Eh vabbè Almeno la mitraglietta Ci sta Questa me ci ha contento Ok E poi niente Per il resto ragazzi Non abbiamo fatto fino adesso Andremo a lootare Qui in giro Anche perché fortunatamente Uno un pensierino Uno un pensierino ce lo fa Ecco Per adesso il pump Mi tengo questo qui Leggendario Piuttosto che quello lì Bianco sicuramente Addirittura alla fine Una chiave L'abbiamo pure trovata Ragazzi Quindi io direi che Quella mitraglietta Leggendaria Ce l'andiamo a prendere Che siamo già a 25 Ed è appena partita La prima tempesta Ma Ma in che senso Cioè non ho neanche finito di lootare Qua sta zona E siamo già in 25 Vabbè Tutto a posto Ma Ah oddio regà Non ho aperto Mamma mia 41 da qui regà 41 da qui ragazzi Il pump Cioè lo uso come cecchino Lo uso Lo uso come cecchino Letteralmente Vai Tentiamo la giocata Ho tentato la giocata Non mi è riuscita ragazzi Però comunque La kill ce la siamo portata a casa Ma che poi regà A un certo punto ho sentito La L'air drop aprirsi Io non ci ho neanche fatto caso Che ci fosse l'air drop lì Va bene E poi mi sono ritrovato questo qua Che stava a lootare Stomo nel laccio Cioè che poi giustamente Regà la lobby Sei di mezzata e mezzo secondo No? E io Mi sono fatto un botto dei giri Fratture fallaci In realtà è arrivato anche più su Poi sono tornato indietro Cioè Ho fatto un sacco di giri E giustamente non sto a trovare nessuno Oh Ecco i primi spari che sento Verso di qua Però non mi va di sprecare i colpi del martello Perché poi quelli in caso Li utilizziamo per scappare Eh Ah regà C'è sta uno qua Aspettate Voglio vedere se riesco A fargli Uno schersetto Se non mi vede Non credo mi abbia visto Non credo mi abbia visto Se lo sta andando a pushare Non credo ancora mi abbia visto Attenzione Via Let's go Spaccatissimo Ma questo No questo è un altro però Ma che sfiga Ma questo mi è cascato addosso Praticamente Ormai c'è voleva armi scarire Perché stavo a sparare l'altro Ma no Ma dai ma che sfiga Mi è cascato addosso Secondo me manco la voleva fare Sta cosa Stava a buildà Ha sbagliato lui Ed è caduto Cioè vabbè Io non lo so Allora qualcuno stavolta Cioè non c'è venuto nessuno Ma qualcuno stavolta È andato lì Alla torre Effettivamente Anche lì potrebbe essere Un buon punto Strano che fino adesso Non ci avevo visto Atterrare ancora nessuno Vediamo se stavolta Sono un po' più fortunato Con il loot Ragazzi Beh la pistolina Già è meglio del DMR Sicuramente Vediamo un po' qua L'occhi rossi Vabbè No però Non lo prendo per ora Ma qua c'è Regà c'è qualcuno Ma Ma in che senso Ma Cioè ma non lo No regà ho preso pure danno Ah sì Ha trovato pure le cure Questo Ha trovato pure il pump Cioè ha trovato più roba di me Beh Non ho parole Non ho veramente parole Cioè questo ha trovato più roba di me Lootando dove Esattamente Cioè dove Aveva lootato questo qui Non sto capendo Vabbè la cosa bella ragazzi È che io così Per velocizzare Ma anche un po' per divertirmi A fare un po' così Stavo utilizzando le impulsi Cioè non lo sta Non la stavo utilizzando Per pusharlo C'è stato proprio un caso Cioè non mi dite regà Che questo ha valutato Solo qui sulla torretta Perché impazzisco Cioè ok che c'è la cesta Dei giurati Va bene tutto Un altro pump Addirittura aveva trovato Ma per favore Regà c'è un altro qua Ma io Regà non ci credo Ma è così frequentato Questo c'ha pure già il martello Ma io un po' gli sparo Regà perché Poi lo devo indebolire E me lo puscio pure Nonostante non abbia colpi Del pump Vabbè se n'è andato Meglio così Cioè della mitraglietta Scusate non ho colpi Della mitra Regà dovuto prendere Sta mitraglietta Perché non trovo Colpi piccoli E c'avevo ancora La pistolina Con 8 colpi E quindi nel dubbio Ho preso questa qua Che almeno c'aveva Il caricatore carico Dunque è incredibile Che siamo in safe Davvero pazzesca Questa cosa Attenzione un po' di colpi piccoli Ah regà Stanno a sparare qua Però sinceramente La safe è molto lontana Io stavo continuando a lutare Perché vorrei trovare un martello Però regà Mi metto sta jump E me ne vado Cioè vi dico proprio La sincera verità Non avendo movement Non avendo cose particolari Prendo e vado a casa Cioè la casa In questo caso Sarebbe la safe Oddio Però effettivamente Avevo il redeploy Avevo la possibilità Di ripiazzare Il deltaplano Vabbè Vabbè Vediamo in safe Che è meglio Anche perché Probabilmente Questa qui sarà L'ultima partita Ragazzi Perché mancano Circa 5 minuti Oddio no Forse facciamo in tempo A startarne un'altra Ma vediamo Ah regà Io vi dico una cosa Siamo in 12 La safe deve stare In piccoli C'è sto bel C'è spuglia Il centro della safe Io questa Tento di vincerla Me la campero E vediamo Se ce la portiamo A casa E ovviamente In questi video Da un'ora Non può che Abbandonarmi La fotocamera Quindi mettiamo La webcam Let's go No regà Mi ha sparato Vabbè Abbiamo sparato Non andava l'audio Perché ovviamente Sono dovuto andare Sul programma Di registrazione E quindi Mi ha tolto Il cursore dal gioco Tornando sul gioco Mi ha sparato Vabbè Ok Quanto faceva ride Se killavo Comunque dovrei essere In safe Raga Proprio di un pizzichino Ino ino eh Mamma mia ragazzi Sento solo una marea Di martellate Comunque vediamo Effettivamente Se siamo in safe Ma ribadisco Penso di sì E ovviamente Sta dall'altra parte Non avendo movement Ragazzi Io tenterei Già di muovervi Che tanto Sicuramente qualcuno Anche in questo cespuglio Volete che non ci sia Quanti cespugli Ci stanno qua regà Oh mio dio Ma qualcuno avrà utilizzato Il cespuglio Proprio L'arma diciamo L'oggetto L'item Se no non si spiega Oh ma che è Tutti sti cespugli qui Allora 20 lì Si stanno curando Io ho il redeploy Mi potrei buttare Poi qui Ma no 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 Vabbè Continuiamo a passare Semplicemente qui dietro E che poi in realtà Qui come mi sono messo Non è proprio Il top del top eh Direi che forse È meglio Se ci mettiamo Qui sopra E ci bigliamo Ecco E già mi stanno Provando a sparare Va bene Vabbè Noi qui cerchiamo Di tenere un attino Sotto controllo La situazione Non ho capito bene Da dove mi hanno sparato E a quello Sta lì fermo Non è entrata la hit Ma Allora non è uno Ma regà Ma ho visto anche Arrivare spari da lì Eh vabbè Sono un pollo incredibile Sono rimasto lì fermo Ma quindi non era uno Ma che cos'era regà Ma vabbè Pensavo fosse uno Va bene Perfetto Quindi da lì Non si è mosso nessuno Benissimo Che poi ho visto Degli spari arrivare Da quel cespuglio Ho visto Era una sorta di buco Pensavo fossero Le gambe Di qualche skin Non c'è niente Vabbè Ok perfetto Oh mio dio Questo mi vuole pushare Proprio con una cattiveria Incredibile Ecco Ma ho già preso il muro Vabbè Sì Fran l'hai preso tu Ma come non mi è entrata la hit Nooo Tre di vita Tre di vita Ragazzi Tre di vita Vabbè ma sto video Non poteva che concludersi In questo modo Cioè muro preso immediatamente Al primo colpo Regà Al primo colpo E poi è rimasto con tre di vita Che sfiga ragazzi Che sfiga E tra l'altro Non mi è entrata la prima hit Perché se no Forse ce l'avrei fatta Anzi quasi sicuramente Comunque ragazzuoli Mi raccomando Vi ricordo di utilizzare Il mio codice creatore GGYT Tutto grande Tutto attaccato Nel negozio oggetti di Fortnite Fondamentale per supportarmi Iscrivetevi al canale Se ancora non l'aveste fatto Lasciando me il mi piace Per supportare la serie Fatemi sapere nei commenti Dove vorreste il prossimo episodio Abbiamo fatto Boh Forse quasi 200 punti All'incirca Che va bene Divisione 6 In un'oretta Ci può anche stare Come cosa secondo me Per me è tutto Ci ritroviamo domani Con un prossimo episodio Qui sul mio canale Ciao ragazzuoli